Sono stata proprio trascinata da questo entusiasmo di Andreina e poi è sempre un privilegio di poter parlare di se stesso, però questo libro non parla soltanto di me, ma parla anche delle donne in Turchia, quindi ha un orizzonte molto più ampio di quello di una vita personale di una donna, di un'attrice, quindi era interessante di fare questo lavoro insieme. Grazie.